Dall'orrore della grande guerra fino all'Italia rurale di cento anni fa c'è tutto un paese dentro le otto storie finaliste della trentesima edizione del premio Pieve, storie di tutto il Novecento, intorno alle quali ruota la manifestazione culturale promossa dall'archivio nazionale dei diari di Pieve Santo Stefano che si terrà dal 18 al 21 settembre prossimi nel Borgo Aretino. Qui dal 1984 si conservano le memorie degli italiani di tutto il mondo in quei diari che uniscono vita e storia. Le otto storie sono otto storie che abbracciano tutto il Novecento. Abbiamo una storia nella prima guerra mondiale di un Chigi Saracini che va in guerra con la sua auto per aiutare i feriti ad essere trasportati. Fino al periodo della seconda guerra mondiale, al dopoguerra, al storie d'amore, a un frate che va in Cina negli anni 30-40. Un riconoscimento speciale sarà poi assegnato al regista Ettore Scola. Si tratta del premio Città del Diario riservato a esponenti del mondo culturale che con il proprio lavoro abbiano contribuito alla conservazione della memoria collettiva. Scola, un maestro che ha saputo raccontare 60 anni d'Italia con le immagini. Un grande regista, un regista che noi inseguivamo da tempo perché la sua filmografia è veramente sempre un gioco con la memoria, un lavoro sulla memoria della storia italiana e non solo, penso anche a quella francese, in alcuni suoi film. E quindi ci fa piacere che sia per la trentesima edizione del premio Pieve, quindi un grande nome per una grande edizione del premio Pieve. Nella quattro giorni di Pieve Santo Stefano, tanti gli eventi in programma, spettacoli, incontri e proiezioni. Tra questi anche il film di Walter Beltroni quando c'era Berlinguer in programma il 18 settembre al Teatro Comunale. Un omaggio a uno dei più grandi protagonisti della politica italiana, 30 anni dalla sua scomparsa. Oltre a Beltroni sarà presente per l'occasione la figlia, direttore del TG3 Bianca Berlinguer.